A Rossano Veneto si respira già aria natalizia in Villa Caffo Navarrini, giornata dedicata ai laboratori. Tanta creatività, tanta voglia di fare per preparare dolcetti, biglietti speciali d'auguri, le ghirlande con gli addobbi, i giochi in legno. Ci sono cinque laboratori, uno di un laboratorio di ghirlande natalizie con legno, uno di costruzione di un burattino, la pirografia, laboratorio dei maffi natalizi e un laboratorio di lettura e con l'angolo morbido per i più piccoli. Tutto grazie ai volontari che prestano il loro tempo. Tutti insieme, giovani e meno giovani, tutti rapiti dalla magia del Natale, da quel senso di solidarietà e fratellanza che è tipico del periodo. La mogna della mamma che abbracciò il contadino, che afferrò le foglie della rapa. Soddisfatti i bambini che hanno partecipato ai laboratori in biblioteca, felici anche i tanti volontari che hanno organizzato l'evento. Grazie a tutti quanti i ragazzi che hanno partecipato ai nostri laboratori, sempre numerosi ogni anno, sempre divertiti e speriamo di farli divertire ancora.